E' un genio della camera, arriva una partita molto importante per la CSL Soccer, sfida contro la capolista Cervetoli, le motivazioni erano già da sole con questa squadra che è capolista, con 5 vittorie consecutive e 7 successi di fila in trasferta. Sì, sicuramente sarà una partita difficile, loro sono un'ottima squadra, stanno facendo un grosso campionato, penso sia la favorita per la vittoria finale, noi sicuramente scenderemo in campo per giocarcela, poi quello che sarà, sarà. E poi una cosa piccolata a margine, insomma ci sono tanti ex che sono interessati a questa partita, poi l'altro ti dico, da Cervetoli hanno chiesto di intervistare proprio il genio della camera, come l'hai preso a capitano questa situazione e come sarà affrontare questi ex? No, sicuramente, come ho detto, sarà una partita delicata, alla fine sì, è una bella cosa anche affrontare gli ex compagni, Gigi, Jacopo, il mister, Alessandro, Daniel, spero sia un bello spettacolo e che vinca il migliore alla fine. Poi ci arrivate dopo la vittoria di mercoledì scorso contro il Gallese, quindi un passo, diciamo così, di rilievo per compiere questa rimonta per la salvezza. Sì, sicuramente la vittoria di mercoledì ci ha dato qualcosa in più per sperare, siamo appunto dai play-out e a quattro dalla salvezza diretta, quindi penso che possiamo giocarci le nostre carte fino a fine stagione, non molleremo sicuramente. Tornando alla gara con Cervetoli, per fare una partita particolare, una partita diversa dalle altre? No, assolutamente, naturalmente gli stimoli sono maggiori perché viene la prima della classe, quindi è sempre uno spettacolo giocarci contro, daremo il massimo, speriamo di fare un ottimo incontro, sperando di vincere, anche perché a noi servono i punti per la salvezza, come a loro servono per la vittoria del campionato, quindi penso sarà una bella partita, un buon incontro. Sì, sicuramente, un buon incontro. Sì, sicuramente, un buon incontro.